Il 17 dicembre investirò 13.000 dollari. Amici, investire in borsa caccia di dividendi. Probabilmente se avete letto questo titolo del video di oggi, vi chiederete se ho bevuto, se sono ubriaco. No ragazzi, allora, niente di strano, niente di particolare. Vi spiegherò in questo video perché effettivamente venerdì 17 dicembre, e venerdì 17 sappiamo che dal punto di vista scaramantico potrebbe non portare bene, perché potrei investire 13.000 dollari. E ve lo spiegherò in questo video. Vi consiglio di seguirmi fino alla fine perché parlerò di 4 azioni. L'avevo già accennato sabato mattina in un video breve e oggi, che è martedì, vi spiego proprio perché potrei arrivare a investire così tanto, che è grandissima fetta della mia liquidità, in un solo giorno. Come sapete, per raggiungere il mio obiettivo di pensionamento anticipato, oltre alla solita tecnica passiva di investimenti in titoli da dividendo, con dividendi crescenti, possibilmente ho recentemente, a maggio di quest'anno, affiancato anche un'operatività in opzioni. In particolare, in una vendita di opzioni put ed eventualmente vendita di call, che attualmente, devo dire, mi stanno dando risultati apprezzabili. Con una media di premi incassati, pari a circa 100 euro al mese, io li calcolo già al netto della tassazione. Chiaramente la tassazione verrà pagata tutta l'anno prossimo, però già faccio i conti come se fossero già nettizzati. E ci toggo il 26%, perché chiaramente a me interessa sapere quello che effettivamente mi entra nelle tasche. Spero che questo video vi possa piacere, spero che possa essere in un qualche modo formativo. Io lo dico sempre, non devono essere visti come consigli di acquisti, consigli di operatività, ma quantomeno come un modo per farsi un'idea su eventuali operazioni un pochino diverse dal solito in questo caso, visto che si tratta di opzioni che chiaramente nascondono tanti rischi, ma che portano con sé anche delle opportunità, secondo me. Se vi piacciono questi video informativi e anche formativi, fatemelo sapere con un like ed eventualmente iscrivetevi al canale in modo tale da non perdervi le prossime puntate. Direi che siamo pronti per partire con queste quattro azioni fatte appunto il cappello introduttivo. Aggiungo inoltre che ogni opzione muove 100 azioni. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio subito con la prima azione. E la prima azione è Unum. Per chi ha la fortuna di scaricare il mio approfondimento mensile o di essere neanche abbonato, sa che Unum è nella mia watch list, è una società assicurativa americana. Cosa è successo? Alla fine di novembre, un po', diciamo, in pre della volatilità dei mercati, ho deciso di aumentare la mia operatività in opzioni, che era un po' ferma durante il mese di novembre. Ed è stato proprio durante questi ultimi giorni che ho incassato il grosso dei premi. In particolare, il 26 di novembre ho venduto un'opzione Unum incassando 45 dollari. Ho fissato uno strike di 22,50 dollari quando il prezzo era di 23,75. Cosa vuol dire? Che, e tutte queste, me lo sono indicato di dire, lo dico adesso, tutte le opzioni hanno scadenza appunto 17 dicembre. Era per quello che potrei effettivamente investire questa somma entro il 17 dicembre. Cosa vuol dire? Che se Unum scendesse sotto i 22,5 dollari al 17 dicembre, io sarei obbligato ad acquistare 100 azioni, ovvero spendere 2250 dollari. Più che spendere, io direi, investire. Unum, come ho detto, è una società del settore assicurativo, ha un dividend yield al prezzo attuale del 5,17%, ha un debito pressoché assente, lo vediamo in questa schermata, a livello di margini, non ha dei margini altissimi, ha un margine di profitto del 6%, però il payout è del 29,5%. Questo vuol dire che ogni 100 dollari di utile, soltanto 30 vengono distribuiti sotto forma di dividendo e tutti gli altri vengono trattenuti dalla società per chiaramente aumentare la propria profittabilità. Ha attualmente un rapporto prezzo utile veramente bassissimo, di 5,95% e un PE forward di 4,58%, un PEG di 1,11% che potrebbe far vedere una sottovalutazione e bisogna anche dire che quest'anno ha avuto una performance abbastanza negativa, soprattutto nell'ultimo periodo e andiamo a vedere qualche dato in più per Unum. Possiamo vedere come nell'arco dei 10 anni abbia avuto un rendimento dividendo esclusi soltanto del 5,21%, ma dopo il traccollo che c'era stato l'anno scorso ha avuto una crescita veramente notevole fino, possiamo dire, all'inizio del 2021 per poi gradatamente andare a scemare. In particolare, negli ultimi 52 settimane ha avuto un massimo di quasi 32 dollari e un minimo di 20,78. Questo vuol dire che al momento attuale ci troviamo nel range basso di questa fluttuazione di prezzo delle ultime 52 settimane. Unum ha avuto la forza di aumentare il dividendo per gli ultimi 13 anni in maniera consecutiva e possiamo vedere appunto come dividend yield e payout ratio siano molto, molto interessanti. Aggiungo inoltre, e questo discorso vale anche per le prossime tre azioni, che nel caso fossi assegnato, chiaramente oltre al dividendo inizierei a vendere anche delle opzioni call per aumentare ulteriormente il mio rendimento. Passiamo alla seconda azione. La seconda azione è Organon. Allora, Organon è nata come spin-off di Merck. È una società del settore farmaceutico e secondo me è interessante vedere come queste quattro azioni operano tutte e quattro in settori differenti, proprio per avere una maggiore diversificazione eventualmente nel mio portafoglio. Dicevamo, settore farmaceutico, in particolare opera nel campo della medicina riproduttiva, i contraccettivi, psichiatria e terapia ormonale. Organon ha un rapporto PE-forward di 4,96, per il resto non abbiamo tantissimi dati perché lo spin-off è avvenuto nel corso del 2021, ma andremo però a vedere qualcosa di più. Perché è arrivata questa scelta? Allora, il 22 novembre, quando Organon quotava 31,8, io ho venduto una put con strike 30 dollari, incassando 40 dollari di premi. Cosa vuol dire? è che se al 17 novembre Organon dovesse quotare sotto 30 dollari, io sarei obbligato ad acquistare 100 azioni al prezzo di 30. Attualmente Organon, lo possiamo vedere qui, quota 28,83. Io sto girando questo video alla domenica, quindi non so ieri cosa sia successo, il lunedì. Quindi se dovessimo arrivare a questa situazione a venerdì 17, io sarei comunque assegnato, ovvero mi verrebbero date 100 azioni Organon a 30 e partirei subito, diciamo, in perdita di un dollaro per azione, ma quello non è affatto un problema. Il dividend yield adesso è del 3,88%, Organon ha un ROI del 31,6%, quindi una redditività sugli investimenti abbastanza alta, secondo me. Possiamo vedere nella schermata che abbiamo visto in precedenza come in questi mesi, in questi sette mesi circa di quotazione, Organon abbia viaggiato sempre tra i 27 e i 38 dollari in maniera abbastanza laterale, una volatilità abbastanza alta, possiamo dire. Sul sito di Seeking Alpha possiamo vedere anche alcuni altri dati. Il dividend yield dato è dell'1,94%, ma è errato perché viene calcolato unicamente sui due stacchi che ci sono stati quest'anno. Quindi in realtà dobbiamo aumentare per due il dividend yield e andare quindi a circa il 3,9%, molto molto attraente, secondo me, e un payout razio veramente bassissimo. Siamo addirittura sotto al 20%, quindi dati di sicuro interesse, secondo me, anche per Organon. Direi quindi che possiamo andare alla terza azione. La terza azione, penso in questo caso di fare contento Davide Disidoro, anzi, lo ringrazio perché ho scoperto Big Lots proprio grazie a un suo video. Si tratta appunto di Big Lots. Per chi non la conoscesse, è un'azienda che opera nel settore dei consumi difensivi e in sostanza, detto in due parole, un discount. ha un dividend yield del 2,61%, un rapporto prezzo utile di 6,51%, forward di 7,48%. Quindi anche in questo caso parliamo di un'azienda probabilmente sottovalutata o comunque che presenta dei multipli molto molto interessanti. Rapporto debito equity pari a zero e questo è sicuramente un ottimo dato, un ROI del 48%, veramente elevatissimo, un gross margin del 40% però che si traduce in un margine di profitto netto soltanto del 4,2%. D'altronde in questo settore quello dei discount è difficile avere dei profitti insomma di un certo dei margini di profitto di un certo tipo. andando a vedere ulteriormente l'altra cosa che non ho detto quando l'ho acquistata il 26 di novembre e quando l'azione quotava 44,14 io ho venduto una put a 37,5 con strike 37,5 quindi molto distante ma Big Lots paga bene è un'azione abbastanza volatile paga bene ho incassato 55 dollari di premio e diciamo mi sono impegnato ad acquistare 100 azioni Big Lots a 37,5 attualmente il prezzo sfiora i 46 dollari quindi devo dire che difficilmente difficilmente sarò assegnato di queste 100 azioni cosa che invece sembra più probabile per l'azione che mi hai visto prima Organon Big Lots negli ultimi 10 anni ha avuto un andamento abbastanza laterale con un rendimento esclusi i dividendi del 26% dopo la fiammata che c'era stata all'inizio del 2021 quando raggiunse anche i 73 dollari l'azione ha ripiegato giungendo a un minimo di 41,76 ma adesso siamo attorno ai 46 dollari andando a vedere la scheda del dividendo possiamo vedere come il dividend yield sia del 2,61% e un payout ratio anche in questo caso bassissimo del 20,89% quindi ci vuol dire che c'è ampio spazio per confermare i dividendi attuali e eventualmente aumentarli Big Lots purtroppo non ha aumentato i dividendi negli ultimi due anni anche probabilmente in maniera prudenziale visto la pandemia in corso e la chiusura dei negozi che c'erano stati durante il 2020 direi che siamo pronti per vedere la quarta e ultima azione e anticipo che si tratta di una dividend aristocrats si tratta di Legget & Plet e per chi non la conoscesse è un'azienda manifatturiera che produce componenti ingegnerizzati che possiamo trovare nelle case nelle automobili in sostanza produce poltrone elettriche sapete quelle che si allungano da sole materassi particolari prodotti e componenti per le automobili ad esempio per i sedili delle automobili è un'azienda che è nata nel 1883 quindi con 138 anni di storia qualcosa di veramente eccezionale il 22 novembre l'azione quotava 41,86 io ho venduto una put con strike 40 quindi impegnandomi ad acquistare 100 azioni lagged and plat al prezzo di 40 nel qual caso il prezzo appunto fosse sotto questo valore al 17 di dicembre per questo ho incassato 70 dollari di premio ma vediamo un pochino lagged and plat i suoi dati fondamentali ha un pie di 14,24 e un pie forward di 13,75 sicuramente superiore alle azioni che abbiamo visto prima ma qui siamo davanti a un colosso delle dividend aristocrats veramente un'azione eccezionale e andremo anche poi a vedere il perché ha un ROI del 9,7% un margine profitto dell'8,1% un rapporto debito equiti appena superore all'1 però stiamo parlando comunque di un'azienda consolidata e non ha comunque un valore altissimo altissimo di debito il dividendo è del 4% cosa che le accomuna con le altre azioni che abbiamo visto in precedenza è che ha raggiunto i propri massimi all'inizio del 2021 quando toccò addirittura quota 59 per poi scendere gradatamente nella seconda metà del 2021 attualmente siamo a 41,73 quindi manca circa un 5% dal mio strike per essere assegnato possiamo vedere anche la scheda del dividendo presenta un dividend yield del 4,03% attuale quindi se fosse assegnato a 40 dollari o sotto avrebbe addirittura un dividend yield anche più elevato un payout ratio del 61% quindi dividendo ampiamente coperto e soprattutto una storia eccezionale di dividendi con una crescita di 28 anni consecutivi del dividendo stesso in questo caso siamo nel settore dei consumi discrezionali quindi abbiamo visto amici miei un'azienda del settore consumi discrezionali abbiamo visto un'azienda del settore discount abbiamo visto una società assicurativa e abbiamo visto un'azienda farmaceutica quali di queste quattro capiteranno nel mio portafoglio il 17 dicembre allora se volete la mia opinione organon potrebbe effettivamente capitare big lots dubito unum è molto molto volatile quindi non saprei potrebbe accadere veramente di tutto e legget emplet mi piacerebbe prenderla effettivamente a 40 ma è un'azione che è difficile da buttare giù soprattutto giunta a questi livelli molto interessanti detto questo però ditemi la vostra su queste mie quattro operazioni datemi una vostra opinione che per me è sempre molto importante e se non avete capito qualcosa chiaramente scrivetemelo sarò felicissimo di andare ad approfondire la mia operatività magari può essere di spunto per voi in ogni caso sostenetemi con un gesto gratuito un like a questo video e l'iscrizione se non l'avete ancora fatto un saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao ciao